bene ragazzi siamo giunti al settimo e ultimo step bene nel settimo e ultimo step dobbiamo fare la faccia gialla e per farla come scritto fare il seguente algoritmo che è r primo da un primo r down che se vi ricordate era quello che vi avevo insegnato all'inizio quindi andiamo a farlo allora vi spiego ci mettiamo qui allora partiamo da un angolo che si deve mettere correttamente ad esempio ovviamente questo non si deve mettere correttamente è già messo correttamente partiamo che so da questo e facciamo questo algoritmo semplicissimo questo qui quindi andiamo a farlo il primo che vi avevo spiegato come ho detto r primo da un primo r down non è messo lo rifacciamo r primo da un primo r down non è messo lo rifacciamo r primo da un primo r down l'angolo si è posizionato correttamente adesso andiamo a girare su un altro angolo che dobbiamo fare adesso con cui vi sembrerà che il cubo si sta scombinando ma dopo vedrete che accadrà la magia qui c'è un altro angolo che si deve fare correttamente quindi rifacciamo la la mossa r primo r primo da un primo r down non è messo lo rifacciamo r primo da un primo r down r primo da un primo r down il cubo è messo giriamo un'altra volta sull'angolo e andiamo a rifarlo ecco qui adesso come vedete magicamente abbiamo risolto il cubo di rubik bene allora congratulazioni avete risolto il vostro primo cubo e spero che questo tutorial vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao